benvenuti alla tendata 2011 ci troviamo in valformazza in alta valformazza precisamente nella conca del lago toggia alle nostre spalle abbiamo il possente basodino la cima più alta del canton ticino comunque qui siamo in italia nella valle in una delle valli più nevose delle alpi ci sono al suolo circa 150 centimetri di neve adesso vi porto alla scoperta del nostro campo abbiamo una tenda che ho in comproprietà con il nostro amico leone anche se ormai non si fa più vivo ma lui esiste ancora almeno si spera una tenda che io personalmente ho sempre odiato e anche oggi ho bestemmiato parecchio per poterla montare mentre dall'altra parte abbiamo la mitica svalbard tenda usata durante la nostra fantastica vacanza in islanda del 2007 una tenda che ha sopportato 20 a oltre 100 chilometri orari e dove attualmente al suo interno abbiamo il signor Roberto Chittò detto anche il bestia che sta cercando di dormire là in fondo vediamo invece il reparto vettovagliamento capitanato dal mitico rambo abbiamo una parte superiore con delle stoviglie e qualcosa da mangiare mentre la parte inferiore è costituita dal reparto fuochi di qui abbiamo il catena che non si sa bene cosa sta facendo adesso vi porto anche a vedere il bagno cosa sta facendo il catena sta preparando il lanciafiamme per darti fuoco la morte nera la in fondo si intravede il bagno non ho voglia di andare fino a là tanto si sa com'è e quindi niente stiamo aspettando il tramonto sono le 20 alle 4 fa un caldo della madonna per essere al 15 gennaio sembra una temperatura di fine marzo inizio aprile vi saluto dai marmellate di ogni genere